Si è svolto oggi il Flash Mob One Billion Rising 2016, campagna contro la violenza sulle donne. Si è iniziato alle 11 in piazza Bezzecca sotto una fitta nevicata, poi alle 12 arriva nella chiesa sconsacrata del Pernone. Alle 14 si è svolto ad Arco in piazza 3 Novembre ed infine alle 15 a Drô in piazza della Repubblica. La giornata è stata dedicata in particolare alle donne emarginate, migranti, profughe in cerca di scampo dalle guerre e di asilo. Quest'anno si è giunti alla quarta edizione di One Billion Rising, una campagna ideata da Eve Ensler, scrittrice statunitense, fondatrice del movimento V-Day. Dal 2013 One Billion Rising ha continuato la sua battaglia con un'adesione crescente a livello globale, aprendo un nuovo dibattito sui diritti, il razzismo, le disuguaglianze economiche e le guerre dichiarate sui corpi delle donne in tutto il mondo. Oltre all'Alto Garda e Ledro hanno aderito all'iniziativa anche le piazze di Cless, Pergine e Val Sugana, Rovereto e Trento. Nel 2014 nella nostra regione le denunce connesse a potenziali episodi di violenza contro le donne sono state 542. A presto! 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 Sì, 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 Sì Sì, Sì Sì, Sì, Sì